Allora ragazzi siamo sulla TheDropperMaps, una mappa con, lasciamo perdere, la sequela dell'altra volta è stata fenomenale questa potrebbe esserlo ancora di più ci sono anche i visual effects o effetti speciali speriamo che sia un pochino più più easy della precedente perché se no veramente qua ragazzi siamo alla frutta andiamo all'uno oh ok va bene ok no ma cioè va bene e uno qua cosa devi fare provare a saltare lì sulla bianca ma secondo me muoio proviamo era un po' troppo lontana la cosa bianca Kawabanga riproviamo no no così fa male ragazzi fa molto male Kawabanga sono Pompelmo il re dei fruttariani non so cosa sto costruendo non so niente maledizione ci siamo arrivati il primo fatto grazie per l'aiuto da casa yeah grande quindi quando devo andare due ok andiamo all'altra adesso ragazzi si questa mi piace di più rispetto all'altra l'altra l'ha un pochino più impossibile quindi ah ok va bene è bello che il salvataggio non l'ho mica fatto io no si oh oh meno male allora andiamo qui oh no e no ma dove mi fa cominciare Kawabanga ok ho capito basta quindi ok boh che dio mi era man di buone minchia 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 ragazzi Kawabanga se la facciamo doi 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 verso l'infinito oltre a piccoli passi prendi questa da piccolo mi chiamavano il capitano ventosa di di quarto giaro maledizione doi ho visto la luce in fondo al tunnel siamo arrivati al salvataggio incredibile ha 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 bene ok e questo era solo il primo livello quindi immaginiamoci gli altri quindi proviamo il checkpoint abbiamo preso andiamo all'oscurità ragazzi kawabanga Non siamo durati tanto Maledizione Minchia sto qua Sto qua è difficile Secondo me Eh si Va dato qualche colpo Con il rampino Va dato Allora C'è atrosi Oh ragazzi Non so cosa ho fatto Ma comunque Non sono morto No Perché Perché Non è possibile No 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 Cioè No No Mi son guffato da solo Scusatemi Ma Capito perché Amore Perché Sono dei saldi Che Generalmente Non è che Ci muore Ci muore Sono dei saldi Che generalmente Non ci muore Questi Però Se ti danno Uno di vita Se ti danno uno di vita Cioè veramente Non so che numero Ho fatto ragazzi Comunque Ci è arrivato Gioco Black Ops Non ce l'ho Black Ops Non ce l'ho Ragazzi È liscio Non ce l'ho L'espressione di una persona Quando riesce a fare una cosa Siamo arrivati Adesso guardate Io guardo anche dove sono i piedi Perché vorrei sapere dove sono Quindi allora Lì forse cado Quindi non lo voglio sapere Mi muovo lentamente Vorrei capire anche Dove andare avanti Perché Cosa devo fare io qua Vorrei anche capire Cosa devo fare Col piccone Qua Ragazzi Non è finito qua Perché siamo sulla seconda parte Della mappa Di TheDromper Perché Hanno deciso che Mettere in una parte sola Forse era Troppo poco E grazie a Giorgio Krafa Che Si è iscritto su Twitch Grande Grazie che mi supporti Andiamo a vedere Vedete che il continuo Allora Yeah Wow Finalmente Andiamo Però non ho ancora Prodito il checkpoint No 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 Ecco perché non ho Prodito il checkpoint Maledizione E ovviamente ho uno Di energie Ma Boh Vediamo Grazie Ragazzi È veramente Con uno Di energie Sapete cosa vuol dire Fare sta roba qua Che se io Manco Una Goncio Ti ho manco Un aggancio Che non ho mancato Sarai stato morto Facciamo il saltino Checkpoint Adesso possiamo esultare Ragazzi L'abbiamo finito Incredibile Ma adesso viene La quarta parte Di questo Lunghissimo gameplay Cioè Video Cioè Livello diviso In quattro parti Perché non ho la roba Da ballare qua Ok Interessante Ragazzi Qua non so cosa c'è da fare Ma Ci sarà un'altra caduta Libera Vai Per la gioia degli occhi Via Però Usiamo Sta Fintoso Qua del cavolo Bene Bene Ok Riusciamo Devo prendere il copertone Lì È facile Questo Non era difficile Ma lo stavo quasi Per Non saltarci sopra Ovviamente E adesso arriva il bello Ragazzi Vediamo 3 2 1 Andiamo Niente Non andiamo Non si è attaccato Da nostra parte 3 2 1 Andiamo Via Via Minchia E tutto con 1 Gio Energia No Minchia Porco zio Niente Non ce l'ho fatta Buona snoce Buona snoce No Da qui No Ributtiamoci Cosa volete che vi dica Eh no Però uno di energia Qua no Perché poi La cosa infima È che c'è anche Uno di energia Cowabang Ok Non so cosa ho fatto Ma comunque Qualcosa è successo E qui vediamo Di non morire Semplice E qua ragazzi Arriva il bello Qui Mancare Un attacco Non so cosa ho fatto Non ho ben capito Dove sono Ragazzi Ci siamo Forse Da qualche parte Ci siamo Ho paura a muovermi Ma Ho paura a muovermi Perché È finita anche Questa seconda parte Del livello Attenzione Meno male L'ultima parte È stata dura Andiamo a vederci La terza parte Di sto livello Qua